Ammonta a 47.900 euro l'importo delle sanzioni elevate per rifiuti abbandonati nei primi sei mesi del 2024 dal personale di ispezione ambientale, attivo da circa 10 anni ma decisamente potenziato a partire dal 2018 non solo nel numero di ispettori e turni di controllo, ma anche nell'impiego di dispositivi di videosorveglianza dislocati sul territorio aretino, una cifra che supera considerando i totali su 12 mesi i due anni precedenti e che proprio da quest'anno sarà utilizzata per contribuire ai costi del servizio, ovvero alla tassa sui rifiuti. Un sistema di controllo efficace che, come spiega l'assessore Marco Sacchetti, non ha come priorità quello di fare cassa, bensì quella di limitare il numero di abbandoni sul territorio che comportano ingenti costi di rimozione. Rispetto a ciò, il numero di interventi per la rimozione di rifiuti abbandonati è sceso del 57% tra il 2019 e il 2023, mentre sono parallelamente saliti quello di richieste di ritiro ingombranti e di conferimenti presso i centri di raccolta. Al contempo sta continuando a scendere il numero di abbandoni 991 nei primi sei mesi dell'anno e con una proiezione che raggiunge i 2000 con un'ulteriore riduzione superiore al 30% rispetto all'anno precedente. Un'attività di controllo importante che può contare anche sulla collaborazione della Polizia Municipale, conclude l'assessore Sacchetti, e stiamo lavorando in buon coordinamento con i carabinieri per la tutela forestale sui vari abbandoni di rifiuti speciali. Insomma, un impegno costante a tutela dell'ambiente e del decoro della città.